Con Alessia Populini commentiamo questo ritorno alla vittoria dell'LPM Bammondo V, un bel 3-0 ci voleva dopo un mese difficile. Beh, diciamo che siamo felicissime, siamo felicissime di essere tornati alla vittoria perché ci voleva, ci voleva per l'animo, ci voleva per la società, ce lo meritavamo e abbiamo, diciamo, lottato d'allenamento come in partita e quindi ce lo siamo guadagnato. Ha funzionato tutto direi dopo un primo set un po' equilibrato, infatti avete preso il largo, tante rigiocate, bene muro difesa, una partita dominata dall'inizio alla fine. Sì, non ho ancora visto a Bellini ma secondo me abbiamo anche ricevuto molto bene, abbiamo avuto un buon ordine in muro difesa, loro sicuramente ci hanno regalato molti pali, hanno fatto molti errori soprattutto nell'ultimo set, ma il muro difesa sicuramente è la cosa che è andata meglio e siamo contenti perché ultimamente non era al top, quindi lavorando lo stiamo mettendo a posto. Ora Modica e Catania l'obiettivo è non fermarsi e riprendere il cammino che avevate iniziato fino a dicembre. Sì, sicuramente non possiamo permetterci scivoloni, ce ne siamo già permessi e sbagliando ovviamente speriamo che in queste partite riusciamo a dare il meglio comunque e questa partita diciamo che ci ha aiutato. Grazie e complimenti.